Buonasera a tutti, io sono Isabella De Crignis e sono stata invitata a tenere un piccolo corso dall'Associazione Invito a Pranzo nel Valle del Natisone, che riunisce un gruppo di ristoratori e di persone che si occupano di far conoscere la cucina e i vini del nostro territorio. Ci siamo qua, aspettati da Francesco all'Agritturismo Monta del Re, che ringraziamo tantissimo. Questa sera prepareremo come primo piatto la bisna, che è una minestra tipica delle valli, fatta con le rape fermentate nella vinaccia, i fagioli, la farina di polenta e altri pochi ingredienti. Poi di secondo farò delle salsicce col brodo di polenta, accompagnate dallo staccanie o stocchia, che è un tipico piatto delle valli Natisone, che sono in pratica delle patate schiacciate con delle verdure. In questo caso io lo farò con il tarassaco e poi con un condimento finale a base di aceto, 8 virchi, che sono i ciccioli e la cipolla e l'aglio. Ciao a tutti, sono Giulia e gestivo il locale Vartaccia fino a un pochino di tempo fa. Oggi ci troviamo invece a cucinare nella cucina di Mascia e l'Ursa o Sgnetto di San Leonardo e andremo a cucinare una stocchia, la stacagne, in versione però vegetariana, la zuppa posgana, che è una zuppa a base di latte, farina di polenta e erbe aromatiche e il frico, fatto però in una versione simile alla frittata, con sempre un'aggiunta di erbe, quindi un intero menù vegetariano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.